pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati per l'appunto era una notta taccia d'inverno tonava forte forte lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco e un ventaccio freddo e strapazzone fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi se non che la fame era più forte della paura motivo per cui accostò l'uscio di casa e presa la carriera in un centinaio di salti arrivò fino al paese con la lingua fuori col fiato grosso come un cane da caccia ma trovò tutto buio e tutto deserto le botteghe erano chiuse le porte di casa chiuse le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane pareva il paese dei morti allora pinocchio preso dalla disperazione dalla fame si attaccò al campanello d'una casa e cominciò a suonare a distesa dicendo dentro di sé qualcuno s'affaccerà difatti s'affacciò un vecchino col berretto da notte in capo il quale gridò tutto stizzito che cosa volete a quest'ora che mi fareste il piacere di darmi un po di pane aspetta mi costi che torno subito rispose il vecchino credendo di aver da fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicolli che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene che se la dorme tranquillamente dopo mezzo minuto la finestra si aprì e la voce del solito vecchino gridò a pinocchio fatti sotto e para il cappello pinocchio si levò subito il suo cappelluccio ma mentre faceva l'atto di pararlo sentì pioversi addosso un'enorme catinellata d'acqua che lo annaffiò tutto dalla testa ai piedi come se fosse un vaso di appassito tornò a casa bagnato come un pulcino e rifinito dalla stanchezza e dalla fame e perché non aveva più forza da reggersi ritto si pose a sedere appoggiando i piedi fradici e impillaccherati sopra un caldano pieno di brace accesa e lì si addormentò e nel dormire i piedi che erano di legno gli presero fuoco e ad agio ad agio gli si carbonizzarono e diventarono cenere e pinocchio seguitava a dormire e a russare come se i suoi piedi fossero quelli di un altro finalmente sul far del giorno si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta chi è domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi sono io rispose una voce quella voce era la voce di geppetto grazie a tutti